Fin dall'inizio, il colore giallo ha avuto qualcosa più degli altri. Il sole dava energia, il fuoco scaldava. E anche oggi, il giallo ti sorprende, ti porta dove vuoi arrivare. Di che colore sono le idee? E i desideri? E i libri più letti? Il giallo è velocità, crescita, futuro. Allora, se hai un'attività o vuoi lanciarne una, che colore sceglieresti per farti trovare dai clienti? Seat Pagine Gialle. Non solo Pagine Gialle, ma tutti gli strumenti più evoluti per il business. Il tuo sito web, l'applicazione che ti serve e la pubblicità dove è più efficace. E saranno i clienti a cercare te. Seat Pagine Gialle. Una nuova generazione di opportunità.